L'iniziativa è necessaria proprio per affrontare un'emergenza che abbiamo nel settore delle cure, nel settore della sanità e la mancanza di personale adeguatamente formato. In Svizzera ci sono circa 11.000 persone che mancano nel settore delle cure, di cui più di 6.000 che mancano sono infermiere e infermieri. In più c'è un alto tasso di abbandono della professione e quindi è necessario investire in questo settore proprio per garantire un'adeguata qualità delle cure.